... Mister Stallone, ci troviamo a commentare uno 0-0 che grida vendetta, soprattutto per quello che il Mondicelli ha mostrato nella seconda frazione di gioco. Ci sono state occasioni da gol gigantesche, soprattutto quella capitata sui piedi di Galli e di Sasa Margarita. Sì, oggi stavamo parlando con i ragazzi del spogliatoio, abbiamo contato ben sette palle gol pulite e c'è amarezza, c'è amarezza perché per come erano andati i risultati oggi questo risultato sarebbe stato oro e soprattutto era un premio per questi ragazzi che sono eroici, non mollano mai. Anche oggi in un campo infame, difficile dove dovevamo fare la partita sono riusciti a fare la stessa intensità, la stessa rabbia, la stessa agonismo, la stessa organizzazione difensiva e tattica dei partiti così importanti dove ci si gioca la vita in off contro diretto. Però dall'altra in questi contri diretti creare sette palle gol sottante, anche perché Marani oggi ha fatto una sola parata in tutta la partita e quindi avevamo chiuso tutte le fonti di gioco loro in fase offensiva. I ragazzi sono comportati benissimo. Io continuo a ripetere, il grande rifiutare è quello che se noi non guardiamo quello che è successo prima, se noi andiamo a guardare il lavoro dell'ultimo mese e mezzo, io credo che la prestazione ci sia sempre stata e meritavamo molti più punti di quelli che stiamo facendo. Purtroppo per come sono andati i risultati oggi, tra l'altro noi dobbiamo stare attenti a questo discorso degli otto punti dell'Agnonese, oltre a guardarci dietro dal discorso del Fabriano, però ripeto, i ragazzi per come stanno giocando, io sono entrato, mi sono abbracciati tutti, gli ho fatto i complimenti, sono stati bravi. È chiaro che più diminuifcono le partite, più la pesantezza dei punti è importante. Per quello che stanno facendo, non dico io, ma i ragazzi si meriterebbero di raggiungere il risultato della salvezza. Una delle note positive, come lei ha sottolineato, sono i punti guadagnati su Agnonese e Fabriano, che poi tra l'altro saranno due sfide importantissime per il Monticelli, due finali possiamo dire. Sì, diciamo che il vantaggio è quello che ancora, nelle prossime cinque partite, abbiamo ancora tre contri diretti, se ci mettiamo anche quello dei nero stellati, che ufficialmente ancora sono in partita, infatti oggi hanno fatto uno 0-0, questa dimostrazione che non mollano e stanno ancora in campionato, sono proprio le prossime tre partite e probabilmente, come dici tu, quando ci rivedremo probabilmente potremo tirare le somme. Io spero che le tirere le somme vi possa pagare qualcosa da bere io a voi, in maniera tale che siano somme per noi a reddito più. In partite del genere un episodio può cambiare tutto, pesa un po' quell'errore di Guido Galli nel secondo tempo, solo davanti al portiere del San Nicolò? Diciamo che è stata probabilmente l'occasione più nitida, anche se il loro portiere secondo me ha fatto tre salvataggi, proprio oggi è stato probabilmente il migliore in campo in assoluto, è stato determinante, è finito il risultato, soprattutto quella che ha ricacciato sia il primo tempo su Bassini e il secondo tempo su Muci con la punta delle dita. Guido ce la fa gli complimenti, è chiaro che se tra i gol annullati che ha ricevuto e qualche palla a gol avesse messa dentro probabilmente avrebbe avuto un indice, un rapporto di partite giocate e gol notevolissimo. Ci si trova, ce lo facciamo trovare, quando fa gollo lo abbracciamo, oggi lo abbiamo abbracciato lo stesso, però sarebbe stato molto molto importante. Avete reclamato anche un rigore nei primi 45 minuti, l'arbitraggio è sempre quello che è. Sì, diciamo che oggi l'arbitraggio, a parte questo calcio di rigore che c'era, una manonetta, che potete rivedere eventualmente dalle immagini, sarebbe stato per noi solamente il secondo rigore, a favore contro, ripeto, i dodici che abbiamo avuto contro, ma questa ormai è una pantomima passata, non vale più la pena di parlarne. Io l'unica cosa che chiedo, lo ripeto, l'avevo anche dichiarato, se noi possiamo giocare una partita 11 contro 11 senza influenza esterne, come avete visto oggi, male che va, non la perdiamo e in ogni caso sicuramente creiamo palle e gol più importanti dell'avversario. Questo lo dicono i fatti. Quando intervengono fattori esterni purtroppo ci portano a perdere qualche punto e se ci troviamo lì io capisco che chi non vive la situazione fa fatica e forse dalle mie parole a volte pensa che io sono di parte, però vorrei vedere qualsiasi altra squadra che partecipa a questo campionato e lo ripeto, che si trova con 12 rigori contro, 8 espulsioni e 5 gol annullati sul primo fuori gioco. È tanta roba, è tanta roba. Domanda tecnico-tattica, perché la scelta di tenere fuori a Luisi probabilmente uno dei migliori in campo a fine partita? Allora, prima di tutto è importante che oggi lui è entrato col piglio giusto, quindi questa scelta è servita anche per scuoterlo in un momento in cui probabilmente il ragazzo doveva ritrovare certi stimoli e ritrovare un attimo il miglior a Luisi che l'hanno scorsa ha fatto parlare di sé tutto il campionato. Secondo perché l'avevamo preparata sui giocatori esterni loro, dove Nicola è un giocatore molto importante in fase propositiva, ma in fase difensiva ancora c'è margini di miglioramento e oggi credo che in quella zona Vallorane ha fatto una partita incomiabile, l'avversario credo proprio non è riuscito mai a rubargli un centimetro. Quindi è stata preparata, quindi diciamo più che un demerito per Luisi è stata preparata in quel modo, Vallorane in quel modo ha fatto bene e tanti complimenti a Luisi che è entrato col piglio giusto e nel secondo tempo secondo me quando è entrato lui, anzi ci ha dato quella spinta in più perché la partita l'abbiamo giocata tutta bene, però credo che nel secondo tempo quando è entrato lui abbiamo avuto veramente qualcosa in più e quella spinta in più e lui ha fatto una grande partita.